Tra il 1891 e il 1894 assistiamo in Sicilia a un processo di mobilitazione e organizzazione delle classi lavoratrici che non ha precedenti di fatto in Sicilia. Questo movimento vedrà come protagonisti tanto gli operai urbani, come anche i minatori delle miniere di Zolfo, come anche i braccianti agricoli e i contadini poveri delle zone cerevicole della Sicilia. Questo movimento viene ricordato come il movimento dei fasci dei lavoratori, appunto dal nome di queste organizzazioni che venivano fondate nelle varie città e nei paesi della Sicilia e che servivano appunto a organizzare i lavoratori per la lotta in difesa dei propri interessi. Da questo punto di vista il fascio già nel nome dà l'idea dell'unione dei lavoratori, potrebbero anche essere chiamate leghe o unioni dei lavoratori. È un movimento che nasce prima di tutto come forma di organizzazione degli operai appunto nelle città. Il primo fascio in realtà fondato a Messina, che però verrà subito sciolto con l'arresto del Presidente, verrà seguito dal vero primo fascio dei lavoratori che è quello di Catania fondato appunto il primo maggio del 1891. Però vediamo già come l'anno dopo viene affondato a Palermo e da lì ci sarà un'espansione precipitosa del movimento e dell'organizzazione dei lavoratori in tutta la Sicilia. Alla fine del 1893, che è il punto massimo di espansione del movimento, ci saranno 175 fasci in Sicilia che organizzeranno tra i 300.000 e i 350.000 lavoratori, di cui circa 200.000 contadini e 100.000 operai. Per comprendere questo movimento che sicuramente ha delle particolarità, sebbene sia rilevante per tutta la storia della lotta di classe di questo paese a livello internazionale, è importante ricordare il momento in cui avviene questa mobilitazione. Siamo in anni di crisi economica, alla fine tra gli ultimi anni degli anni 80, dell'800 e primi anni 90. La Sicilia viene colpita con particolare forza da questa crisi. Sono colpite con un grande impatto le aree della viticoltura, degli agrumi, anche per la politica protezionista dell'Italia. C'è un crollo anche nella produzione delle miniere di zolfo. In generale in Sicilia si diffonde nuovamente l'isoccupazione e nelle campagne si soffre la fame. Il carattere di questa crisi però è diverso da quello delle crisi che nei secoli hanno attanagliato la popolazione rurale, perché di fatto è una crisi capitalistica moderna, è appunto una crisi del mercato e delle configurazioni del mercato capitalistico. In effetti la Sicilia negli anni precedenti a questo alla crisi e poi allo sviluppo del movimento aveva avuto uno sviluppo economico importante. Nel settore appunto della vite e degli agrumi c'è stato un grande sviluppo, si era raddoppiata la produzione, lo stesso modo si era raddoppiata quasi la produzione dell'ozolfo. Questo aveva creato un nuovo proietariato tanto industriale appunto nelle miniere quanto agrario, agricolo con un importante sviluppo in settore di bracciano. Però appunto la crisi, questa crisi molto forte che avrà i suoi anni più duri per la popolazione siciliana nel 1892 e il 1893 colpì principalmente appunto le classi lavoratrici. Fu scaricata sulle classi lavoratrici come tutte le crisi capitalistiche. Soprattutto i grandi proprietari guerrieri di fatto non ebbero quasi nessun danno perché i canoni che riscuotevano dei contadini poveri che coltivavano le loro terre erano canoni fissi, fissati da anni e che appunto rimasero invariati. Quindi a patire la fame furono sicuramente prima di tutto la popolazione delle campagne dei contadini poveri ma anche i braccianti appunto e gli operai che affrontarono la disoccupazione. Ciò che appunto è importante per questo movimento è che fa sì che il protagonismo delle lotte contadine possa svilupparsi a un altro livello rispetto a quello che era stato in passato e appunto la presenza di questo blocco operaio contadino. I fasci sono un'organizzazione principalmente urbana inizialmente che organizzano gli operai, i lavoratori delle città e che di fatto si ispirano all'ideologia marxista. Servono a organizzare le lotte dei lavoratori ma si ispirano al principio dell'ideologia marxista. Un passaggio importante per questo sarà appunto il congresso di Genova di fondazione del partito dei lavoratori italiani e qui parteciperà anche Garibaldi Bosco che era uno dei principali dirigenti del movimento in Sicilia. I contadini avevano partecipato in tutti gli episodi significativi della storia vitale, dei processi rivoluzionari per lottare per quello che era la loro indicazione tradizionale, cioè l'accesso alla terra. Questo lo vediamo nel 1820 e 1921, nel 1848 e 49, lo vediamo in misura forse ancora maggiore durante il processo risorgimentale, durante l'impresa Garibaldina con le rivolte di Bronte a Calarifusi, Caronia e Francavilla. Però appunto vediamo come i contadini che si organizzeranno in maniera massiccia durante questo periodo, lo vedremo nei scioperi tanto dei braccianti quanto dei contadini poveri per il cambiamento dei patti colonici, troveranno appunto nell'idea del movimento operario e nei medi di organizzazione socialisti un modo per esprimere in maniera forte e determinata le loro rivendicazioni. Vediamo infatti in realtà in questo movimento una parziale divisione. Vediamo come nella zona orientale abbia i fasci più importanti, quelli di Messina e di Catani che hanno una caratterizzazione direttamente operaria. Nella zona occidentale invece che è la zona dove maggiormente regniamo il lavifondo e i contadini poveri appunto accedevano alle terre per mezzo del gapellotto e poi al gapellotto davano la maggior parte del raccolto. Abbiamo sia una grande partecipazione operaria con ad esempio 1200 operai delle fonderie a Palermo o anche sempre a Palermo un importante numero di operai ferrovieri e dei piroscafi, di lavoratori delle ferrovie e dei piroscafi, però al contempo abbiamo anche una grandissima espansione del movimento tra i contadini poveri delle campagne. In effetti se la classe contadina secondo la teoria marxista non può giocare un ruolo indipendente può rivelarsi tuttavia un alleato fondamentale nella lotta contro il capitalismo, soprattutto in un'economia capitalista arretrata come quella siciliana dell'epoca. Vediamo però che i contadini soprattutto nella Sicilia occidentale dove appunto era maggiormente presente il tipo del contratto del terraggio in cui i contadini lavoravano per conto del signore le terre e dovevano al padrone un carone fisso che spesso gli lasciava alla fame letteralmente. Proprio in quella zona i contadini sembrano intuire che solo attraverso alleanze con i lavoratori, solo sotto la guida dell'idea del marxismo la loro lotta può avere un successo. la portata rivoluzionaria di questo movimento che si innestò nelle contraddizioni più forti dello sviluppo capitalistico dopo l'unità d'Italia e che il suo sviluppo proprio in Sicilia aveva il suonello debole lo vediamo ad alcuni elementi. Prima di tutto il ruolo delle donne. Le donne ebbero un ruolo straordinario in questo movimento per nulla secondario e il che dà un'idea della profondità di questo movimento soprattutto in Sicilia dove appunto la discriminazione delle donne era molto fuori. Più volte le donne affrontarono coraggiosamente i carabinieri costrinsero i loro mariti a fare sciopero, a scendere in sciopero quando invece non avevano il coraggio e restavano al lavoro. A Milena persino 500 donne assaltarono la caserma dei carabinieri per liberare i prigionieri che erano stati fatti dopo una manifestazione. Persino inoltre a Pianali, Albaneschi, che era una delle zone dove i fasci lavoratori presero più piede, in cui si radicarono con maggiore forza, dove su 9.000 abitanti, 3.500 erano iscritti al fascio, stiamo parlando di quasi tutta, quasi tutta il paese, c'erano dei fasci composti di sole donne. Poi si è interessante leggere uno stralcio di un'intervista che Adolfo Rossi, che era un giornalista mandato alla tribuna in Sicilia per fare un'inchiesta sul movimento, fece a una donna contadina di Piana di Albanesi. Inchiese Adolfo Rossi, ma cosa sperate voi dalla costituzione del fascio alla lotta nel fascio dei lavoratori? La contadina rispose, vogliamo che come lavoriamo noi lavorino tutti e non vi siano più né ricchi né poveri, che tutti abbiano del pane per sé e per i figli. Dobbiamo essere uguali. E così vorreste dividere le terre e le case? Chiese allora Adolfo Rossi. No, basta metterle in comune e distribuire con giustizia quello che rendono. E allora chiese ancora, e non temete che, se anche se arrivasse a questo collettivismo, non venga fuori qualche imbroglione, qualche capo ingarnatore? E la donna rispose, no, perché ci deve essere la fratellanza? E se qualcuno mancasse, ci sarebbe il castigo. Ugualmente, e poi se lo vuoi citare un'altra aneddota per dare l'idea del fervore con cui le masse contadine e proletari indracciarono le idee del socialismo, a Corleone dopo una riunione del fascio, sempre Rossi, chiese ai membri, ma cosa intendete voi per il socialismo? E gli uni rispossero rivoluzione, gli altri mettene insieme le proprietà e mangiare tutti uguali. La forza di questo movimento, che appunto ebbe una portata straordinaria, in realtà è tale che anche i settori intermedi della società, quindi non proletari, non dei contadini poveri, scesero in campo dal lato dei fasci. questi furono in gran parte insegnanti, medici, intellettuali e piccoli proprietari. Di fatto, molti fasci erano appunto questi elementi piccoloborghesi che avevano la direzione del movimento. Questo sicuramente è significativo perché è un sintomo della sprezza delle contraddizioni in Sicilia e anche della retratezza, in qualche modo, del capitalismo in Sicilia, però portò anche dei problemi in seguito, come vedremo, per appunto la direzione del movimento. Però la forza di attrazione in questo momento fu tale che, esempio, tale Vito Fusco, che era un piccolo proprietario, superando anche la ristrettezza dei propri interessi, disse ci siamo convinti che domani vivremo meglio con il nostro lavoro di quello che è oggi con le nostre terre. Dopo lo sviluppo economico, come abbiamo accennato, da approssimativamente al 1860, al 1885, e che aveva sì creato una nuova classe lavoratrice in Sicilia, aveva alterato gli antichi rapporti tra le classi, rendendo sempre più vicina la possibilità di una lotta collettiva per il socialismo, la crisi appunto aveva reso un'esigenza immediata per le masse lavoratrici, quella di ribellarsi. E appunto proprio dopo una prima fase di organizzazione, in cui i fasci si estendono, si organizzano, abbiamo nel 1993 il momento della lotta. Le mobilitazioni cominciano in maniera significativa il 20 gennaio a Catalvoruro con l'occupazione delle terre de Magnali che i manifestanti tenevano fossero ingiustamente state depredati dalle socrazia e borghesia locale. Bene, questa manifestazione con l'occupazione delle terre incontrò in realtà una repressione molto forte, con 13 morti. Però in realtà il movimento non si fermò, anzi si intensificò proprio dopo questo atto di repressione. Sia a livello nazionale ci fu solidarietà con una sottoscrizione, ma anche in Sicilia le manifestazioni in favore e in solidarietà con i manifestanti e con le vittime ebbero luogo. A Corleone, ad esempio, ci furono migliaia di persone che si riunirono in una cerimonia e vennero raccolti nei fondi per sostenere le famiglie delle vittime. Già il primo maggio vediamo il primo grande sciopero che partì da Corleone e si radiò nella zona circostante. Ci fu lo sciopero a Piana di Grecia, a Campofiorito, a San Joseppegliato, uno sciopero che durò una decina di giorni e più e che vide protagonisti i braccianti agricoli. Nuovamente però fu la repressione che incontrarono i manifestanti, ad esempio il 7 maggio venne avessato Nicola Barbato e tanti altri contadini e operali. Un momento significativo di svolta del movimento lo abbiamo nei giorni 21, 22 e 23 di maggio sempre, dove quando si avrebbe dovuto celebrare il primo congresso del Partito Socialista Siciliano, il primo congresso regionale dei fasci dei lavoratori e un corteo regionale che in realtà fu obbitato dalla polizia. Nonostante una grande attenzione delle forze dell'ordine che di fatto occuparono militarmente la città, fu un esterno di spiegamento militare e tutti i partecipanti vennero seguiti in tutti i loro spostamenti per creare uno stato di assedio, in qualche modo, un clima di stato di assedio. Eppure i due congressi si svolsero e videro una partecipazione di 4.500 persone. Vediamo però che in questo congresso, soprattutto il congresso dei fasci, abbiamo alcuni elementi di avanzamento, di coscienza politica, ma anche un'inesperienza e dei limiti importanti sul piano della lotta del programma. Infatti da un lato tutti i membri dei fasci dei lavoratori vennero iscritti al Partito Socialista, fu appunto passata una mozione che prevedeva questo. E d'altra parte però, pur ribadendo il carattere socialista del movimento e degli obiettivi, non si fece nessuna discussione su come portare avanti il movimento, come estendere la lotta, come farla vincere. Questo sicuramente è un grande limite che vedremo, soprattutto nei mesi successivi, che avrà delle conseguenze tragiche in realtà. Anche perché il governo, in quel momento il governo forse dell'Italia moderna, con appunto giolitiche cercando di incastrare, di infangare il buon nome, l'immagine del movimento associandolo con la mafia, portò avanti appunto questa schedatura di massa, cercando di trovare pregiudicati chi avesse legami con la mafia. Pare inutile dire che chiaramente questo tentativo repressivo non ebbe alcun risultato, perché pochissimi erano coloro che avevano, che erano pregiudicati, che avevano con più dei reati, che erano totalmente, nella quasi totalità dei casi, reati minori. E la mafia in realtà si è sempre caratterizzata in Sicilia per essere un fenomeno delle classi dominanti, un fenomeno parassitario di oppressione, mentre invece il movimento di fascia lavoratoria si caratterizza come la riscossa delle classi lavoratrici in Sicilia. Un'altra fase importante per lo sviluppo del movimento sono le elezioni amministrative che verranno nel 9 luglio e nei giorni seguenti, dove però cominciamo a vedere se da un lato un'importante mobilitazione sempre, il suo segno dei fasci lavoratori e dei candidati operai, ad esempio a Piena di Albanese San Giuseppe Iato, dove Barbato e gli altri operai contendini arrestati verranno candidati, seppure ancora in carcere, e otterranno un plebiscito ugualmente a San Ciprinello, un altro comune dove la lotta era importante. Gli avversari direttamente si ritireranno di fronte ai candidati operai e a Messina furono eletti Petrina e noi che erano due dirigenti del fascio locale. Però al contempo vediamo dei dentennamenti, ad esempio da parte di De Felice, che non rompe con le forze democratiche radicali, no, piccolo borghesi di Catania. Questa idea come comunque la direzione dei fasci appunto in questi intellettuali, De Felice era anche un deputato, ebbe dei limiti importanti. Eppure, nonostante questi dentennamenti, vediamo che il movimento continua a estendersi e a crescere e con il 31 luglio, quando si celebra il congresso di Corleone, e viene elaborato il programma di Corleone, comincia il più grande sciopero, in realtà, dell'anno, che verrà però principalmente non più i braccianti scendere in piazza, ma invece i contadini poveri per la modifica dei patti colonici. Abbiamo parlato prima del ferraggio, che è un patto particolarmente sfavorevole per i contadini, dal momento che avevano, dovevano assegnare una quota fissa, dovevano consegnare una quota fissa al padrone, e questo annate e sfavorevoli portava letteralmente alla fame. Si aggiungono pure tutte le tasse che devono essere pagate, e la semenza, i semi per coltivare, che spesso venivano anticipati in maniera usuraia dal padrone stesso, ci rendiamo conto come spesso appunto i contadini fossero ridotti alla fame, come appunto in questi anni di crisi e anche di annate sfavorevoli dal punto di vista meteorologico. Però la cosa interessante è che ci dà l'idea dello sviluppo contraddittorio di questo movimento, che la rivendicazione che venne fuori di fatto da questo congresso, che poi fu la base per un movimento di scioperi che arrivò nel punto massimo a veder partecipare 50.000 contadini e più numeri ancora superiori, se noi consideriamo tutto il periodo in cui appunto tante persone si avvicinarono nella lotta, fu l'obiettivo, il ripristino della mezzatria, che in realtà è una forma molto arretrata anche dal punto di vista economico, quindi ha una rivendicazione sindacale molto in realtà limitata, che però aveva in quel caso il vantaggio di garantire una spartizione del prodotto tra padroni e contadini variabile appunto rispetto alla produzione. Quindi vediamo questo elemento molto arretrato, però d'altra parte la conduzione dello sciopero che venne fatta in maniera moderna, con i metodi della lotta di classe moderna, erano le assemblee di base, appunto dei facili, che decidevano come portare avanti la lotta, che decidevano appunto se accettare o no le offerte della controparte, di fatto una gestione democratica totalmente dello sciopero. Tuttavia, proprio in questo movimento, cominciamo a vedere l'emerge dei limiti della direzione regionale, che appunto era in realtà quella del Comitato Centrale, che era stato eletto nel congresso di Palermo. Perché se, sia precedentemente, abbiamo visto altri settori, diversi da quelli dei contadini poveri, come i braccianti e anche i minatori in realtà scendere in sciopero, in questo momento lo sciopero è quasi ridotto alla zona occidentale e vede la partecipazione esclusiva dei contadini poveri. Questo per un motivo importante. Avevamo detto prima che la Sicilia era di fatto spaccata in due dal punto di vista economico. Se la zona occidentale aveva appunto la prevalenza della di fondo e l'assenza totale della piccola proprietà. La zona orientale aveva un tipo di agricoltura diversa, che appunto si basava sui agrumi e sui vidigni. Una tale agricoltura difficilmente poteva permettere a contadini poveri di prendere in consegna per lavorarci dei terreni, appunto per il maggiore livello, l'alto livello di capitali necessari per inserire le colture. E quindi c'era una divisione di classe molto più forte delle campagne, tra i contadini ricchi o medio ricchi che potevano prendere terre dai signori aristocratici, no? Che costruivano questi grandi appezzamenti, e invece i contadini poveri che erano costretti a lavorare come braccianti. Di fatto questo sciopero non fu esteso alla parte orientale, non si elaborò una piattaforma che potesse unificare le lotte e questo sarà un elemento di estrema debolezza del movimento. D'altra parte i minatori e già si erano fatti sentire nei mesi precedenti, parteciperanno allo sciopero, anzi elaboreranno anche un programma importante al congresso di grotte, però arrivarono molto tardi nella mobilizzazione, di fatto già un mese dopo che lo sciopero era iniziato. Con l'avvento del governo Crispi, quindi vediamo che la direzione del movimento siciliano di fatto cade nella più totale confusione. Si alternano i proposti di intensificare la lotta o invece a fare firmare una tregua col governo, in fatto scendere a patti con Crispi. Soprattutto gli elementi piccolborghesi cominciano ad avere una fiducia anche sparticata nei confronti di Crispi, il quale invece cercava pure di creare alleanze nell'isola a suo favore, lo faceva solo per preparare la repressione per conto della borghesia e dei proprietari terrieri. Vediamo che alcune zone, come ad esempio il fascio di Messina, appoggiano totalmente Crispi. Montalto, il presidente del fascio dei lavoratori di Trapani, appoggia Colaianni e di conseguenza appoggia Crispi. Però al contempo vediamo anche un'intensificazione in realtà in parte della lotta, che però per l'assenza di una direzione che sappia dare una linea guida chiara, che sia capace di estendere lo sciopero, di portare anche un programma unitario che mobili tutti i settori delle classi lavoratrici, vediamo come in parte e soprattutto nella zona occidentale la lotta scende sul terreno della lotta contro le tasse, con episodi anche come quello di Giardinello, dove la polizia spara sui manifestanti facendo numerosi morti. I manifestanti assaltano in municipio e uccidono il messo comunale e la moglie ugualmente a partinico vengono distrutti proprio i gasotti taziali del municipio stesso. Vediamo quindi come proprio nel momento in cui sarebbe stata necessaria la maggiore fermezza possibile, il momento comincia in realtà a sfaldarsi anche per quei limiti di cui abbiamo discorso, però vediamo molte manifestazioni, ci sono 28 comuni nei quali dal 30 dicembre al 3 gennaio, cioè il giorno in cui fu dichiarato e stato assedio, ci saranno le manifestazioni contro il governo di Crispi per migliorare le condizioni di vita e per gli interessi dei contadini poveri e dei braccianti. Di fronte al movimento che comincia a sfaldare il suo fronte, Crispi si sente pronto per portare avanti la repressione. Il 3 gennaio verrà dichiarato lo stato assedio, il generale morra di Lavriano, avrà pieni poteri, porterà avanti una repressione asprissima. Tutti i principali dirigenti del movimento verranno arrestati, verranno fatti migliaia di arresti, 1962 saranno le persone, tra notadini, operai verranno arrestati, i fasci sono sciolti per legge. E vediamo però come proprio in questo momento in realtà la direzione nazionale dei socialisti si smarchino, si crea una distanza tra sé e il movimento. Appunto avevamo già letto prima quello che è stato a lotta di classe, ma un manifesto dei deputati socialisti recita i modi dolorosi di Sicilia non sono fenomeni coscienti della nostra propaganda, non sono manifestazioni di applicazioni del nostro programma, ma sono gli spasi sintomatici di profonde antiche ingiustizie che noi vogliamo soppresse con la completa rigenerazione sociale. Vediamo quindi come il partito, la direzione del movimento, tanto regionale quanto soprattutto nazionale, di fronte di lasciare la propria incapacità di portare avanti la lotta, di saper creare un fronte che potesse vincere, che potesse impedire la repressione che già era comunque prevedibile e lo diventava sempre di più col passare il tempo, invece si distacca dal movimento e incolpa alla fine il movimento di essere arretrato, di non essere cosciente, di non essere espressione dei principi socialisti. Quando invece anche i contadini, soprattutto i contadini nella zona più arretrata della Sicilia, dove le condizioni economiche, i rapporti di produzione erano più arretrati, come abbiamo visto, in realtà furono protagonisti lotte molto caraggiose e che vennero portati avanti sotto la bandiera della classe operatrice del marxismo. Di fatto la repressione dei fasci lavoratori non soltanto fu una tragedia per i diretti interessati, per coloro che caddero sotto la repressione, che fu molto dura, come dicevamo, i dirigenti vennero dati pene dai 10 ai 18 anni, al vero persino vennero dati 32 anni tra il processo collettivo, un processo per i fatti di Lercara. Però questa repressione, la fine di questo momento che venne stroncata dalla violenza dello Stato rappresentò una vera tragedia per la Sicilia, per tutte le classi operatrici isolane. Infatti la grande emigrazione che seguì con 560.000 persone, una popolazione di 3 milioni e mezzo di persone all'epoca, in 10 anni scappò della Sicilia. È un vero e proprio esodo e questo dimostra appunto come in realtà in quel momento per centinaia di migliaia di contadini poveri, braccianti, lavoratori, questo movimento fu la vera speranza di una riscossa delle classi operatrici, la possibilità concreta di un'alternativa al sistema dello sfruttamento capitalistico e dei residui dello sfruttamento feudale. Dopo la sconfitta, che come abbiamo visto era evitabile, sarebbe stata evitabile se si fosse creato un fronte compatto, quantomeno sarebbe stata evitabile in questa forma così brutale, cancellò di fatto ogni possibilità, ogni speranza di un cambiamento e questo portò a un esodo di massa. Proprio i fatti della Sicilia di questi anni, di un movimento che bruciò forse con una miccia corta, ma sicuramente fece una grande fiammata, che portò centinaia di contadini, operai, braccianti, agricoli, a organizzarsi e lottare sotto la bandiera del socialismo per i loro interessi contro il sistema capitalistico, ci insegna molto, ci fa vedere come il sviluppo capitalistico non sia mai sentita contraddizioni che portano sempre all'emergere, a un certo punto, della lotta di classe, di uno sconto frontale tra le classi e come soprattutto sia necessario. L'organizzazione della classe operatrice è un programma, un partito che guidi la lotta della classe operatrice, che si espressioni nei punti più avanzati e che abbia però un programma, è una tattica, una seregia che permetta di estendere il più possibile la lotta e di vincere in ultime istanze. Questo mancò, mancò per i limiti politici e anche organizzativi, per l'inesperienza della direzione, per l'assenza di una vera direzione rivoluzionaria della classe operatrice a livello regionale e nazionale. Ma proprio questi fatti ci devono in realtà ammonire sulla necessità anche oggi di costruire una tale organizzazione.